I compagni mi hanno colto tutti bene, mi sto trovando benissimo e non vedo l'ora di iniziare questa magnifica esperienza. Io ho fatto tutta la trafila al Genoa, sono tanti anni che sono lì. Questa è la mia prima esperienza tra i grandi al di fuori di Genova. Sono molto entusiasta, spero di dare una mano alla squadra e di centrare il nostro obiettivo. Questa è una bellissima vetrina, Crotone è una grandissima squadra, ha una società spettacolare dietro e quindi per me è una grande opportunità anche per farmi vedere dal punto di vista nazionale. Quindi non vedo l'ora di iniziare, di fare bene e di dare una mano a questa squadra. Sono qui ora da due giorni e ogni giorno ero buone sessioni di training e sono felice di essere qui. Io penso che fisicamente e il mio lato, sono molto bene, sono fito e sono pronti per la season. C'è una differenza fottola tra Crotone e Venezia, ma è una tattica diversa e è completamente diversa. Ma mi piace questa tattica veramente e credo che questo club è servito migliore di quello che sono ora in questa squadra. Ciao a tutti, forza Crotone! Saluti a tutti i difusi, forza Squali!